Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, stiamoci dentro col video. Anche se vivi la tua vita con amore e con impegno, non è detto che in cambio riceverai tutto il bene dal mondo, perché a popolarlo vi sono esseri selvaggi che non si fanno alcuno scrupolo ad annientare il cammino altrui. Si celano dietro le maschere dell'ordinarietà e agiscono indifferenti all'innocenza e alla stessa vita di quelle che considerano le loro prede. È il 1992 e ci troviamo nel Massachusetts, precisamente ad Aguam, una città della contea di Hampden. All'inizio degli anni 90 Aguam ha una popolazione di circa 27.000 abitanti e tra loro c'è Lisa Marie Ziegert, una ragazza di 24 anni, nata il 24 marzo 1968, figlia di George e Diane, detta Dee. Lisa è la secondogenita, infatti ha anche un fratello di nome David e due sorelle, Sharon e Lynn. Lisa è una giovane donna brillante ed estroversa, vivace e divertente. La madre la descrive come una persona speciale dalla risata contagiosa e che emette tutti di buon umore. La famiglia Ziegert ha sempre vissuto ad Aguam e anche Lisa cresce qui. Tutti i membri del nucleo sono molto uniti e Lisa è tanto legata ai genitori e ai fratelli. La sua è un'infanzia felice che scorre nella normalità. Da sempre Lisa ha anche tanti amici ed adolescente scopre una grande passione per la musica. Infatti durante il liceo si unisce alla banda della scuola in cui suona il sassofono e il flauto. Nell'anno in cui si verifica il caso, cioè il 1992, Lisa già lavora in una scuola media come assistente didattica supportando i bambini che presentano esigenze educative speciali. Lisa adora il suo lavoro e i bambini che aiuta. Infatti sua madre racconta che condivideva con loro un rapporto speciale. La 24enne però svolge anche una seconda professione, perché l'impiego come assistente didattica non le consente di percepire uno stipendio sufficiente per mantenersi. Così per guadagnare qualche soldo extra, alcuni pomeriggi della settimana Lisa è impegnata in un negozio di souvenir di Aguam che si chiama Brittany's Card and Gift Shop. Lisa quindi durante quasi tutti i giorni feriali termina il suo incarico alla scuola media locale intorno alle 16.30, dopodiché si dirige direttamente al negozio di articoli da regalo per svolgere un turno di 4 ore, cioè dalle 17 alle 21. Questo accade anche il 15 aprile del 1992. Dunque Lisa dopo aver lavorato alla scuola media si reca subito al negozio per iniziare il suo turno. La giornata non è particolarmente impegnativa, il flusso di clienti non è continuo e Lisa infatti si trova lì da sola. Verso le 17.30 nel punto di vendita fa il suo ingresso una cliente abituale, ovvero Lynn, una delle sorelle di Lisa. Lynn va spesso a trovare sua sorella mentre lavora, ha piacere di fare quattro chiacchiere con lei, inoltre ama quel negozio e ne approfitta per dare un'occhiata ai nuovi arrivi. Quel pomeriggio Lynn e Lisa parlano del più e del meno, quest'ultima racconta del suo lavoro a scuola e dei suoi progetti per il futuro. Qualche minuto dopo le 18, Lynn saluta Lisa e se ne va, intenzionata a tornare a trovarla il giorno successivo. Purtroppo non può immaginare che quella sarà l'ultima volta in cui vedrà sua sorella ancora in vita. Un'informazione certa è che alle 20.20 un cliente fa acquisti nel negozio perché Lisa gli rilascia lo scontrino. Non molto tempo dopo, verso le 21, quindi proprio all'orario di chiusura, entra un'altra cliente. La donna crede che il negozio sia ancora aperto, dato che la porta d'ingresso non è stata chiusa e che le luci sono accese. Eppure guardandosi intorno, il cliente ha la sensazione che lì dentro non ci sia nessuno. Nessun dipendente le sia avvicinato per chiederle se abbia bisogno d'aiuto e non c'è nessuno neanche dietro il bancone con la cassa. La donna pensa che questa situazione sia davvero strana, non è normale lasciare un negozio incustodito. Poi sobbalza perché sente un rumore che proviene dal magazzino sul retro. Non riesce bene a identificarlo ma le sembra che qualcuno stia tirando dei colpi e ipotizza che il dipendente di turno stia sistemando le ultime cose prima di prendere le chiavi e chiudere il negozio. Con questa convinzione la cliente si rassegna e va via. Il mattino successivo, quindi quello del 16 aprile 1992, Sofia Maynard, una delle colleghe di Lisa, si dirige al negozio per iniziare il suo turno alle 8.45. Ma quando Sofia si ferma nel parcheggio, è nata qualcosa di anomalo. L'auto di Lisa è ancora parcheggiata fuori dal negozio, eppure lei non è mica di turno quella mattina. In ogni caso Sofia scende dalla macchina e raggiunge il negozio, estrae le chiavi per aprire la porta, ma si rende conto che è già aperta. Forse Lisa si è dimenticata di chiuderla la sera precedente, quando ha concluso il suo turno di lavoro, o forse è già dentro per qualche motivo. Questo pensa alla fine Sofia. Così, una volta all'interno del negozio, Sofia inizia a chiamare il nome di Lisa, ma non riceve risposta. Si guarda intorno, proprio come aveva fatto l'ultima cliente la sera prima, e nota che le luci sono accese, e che alcuni oggetti di Lisa sono ancora lì, ma di lei non c'è traccia. Ma quindi, dov'è finita Lisa? Non può essere andata molto lontano, visto che la sua macchina è parcheggiata all'esterno. Forse le è successo qualcosa durante il turno del giorno prima? Sofia comincia seriamente a preoccuparsi, così decide di contattare il 911 per denunciare la scomparsa della sua collega. Nel frattempo, anche la famiglia Ziggert inizia a farsi prendere dal panico, perché ha ricevuto una chiamata dalla scuola dove lavora Lisa, e ha scoperto che la ragazza, quella mattina, non si è presentata per il suo turno, e che non ha avvisato nessuno. Questo sarebbe un comportamento insolito per Lisa. Quindi i suoi familiari intuiscono che qualcosa non va. Allarmati si dirigono al negozio, all'ultimo posto in cui la sorella Lynn l'ha vista il pomeriggio prima. Una volta lì vedono che la polizia, contattata da Sofia, la collega di Lisa, è già arrivata. Gli agenti parlano con la famiglia della ragazza scomparsa e con i suoi colleghi per comprendere che tipo di persona è Lisa. Forse in passato era già sparita senza dare informazioni a nessuno? La sua famiglia precisa che Lisa non ha mai fatto una cosa del genere e che è sempre stata una ragazza responsabile e affidabile. Non se ne sarebbe mai andata senza comunicare a nessuno dove fosse diretta e quando sarebbe tornata. Quindi la polizia sospetta che sia accaduto qualcosa di sinistro e teme per la vita di Lisa. Queste paure vengono confermate appena i detective iniziano a perlustrare il negozio. Infatti, dando un'occhiata al magazzino che si trova sul retro, notano che c'è un'ammaccatura sulla porta, un solco che sembra creato da una scarpa. Gli investigatori ipotizzano che Lisa sia stata aggredita e lanciata contro la porta e che la sua scarpa, a causa dell'urto, abbia generato quella ammaccatura. Deve essere avvenuta una lite violenta. Poi la polizia individua delle tracce di sangue su alcuni palloncini presenti nel negozio. L'ennesimo indizio di un'aggressione avvenuta lì dentro. Ma Lisa, dove può essere? Le prove raccolte suggerirebbero che sia stata rapita. Poco dopo l'avvio dell'indagine, la polizia informa già il pubblico della scomparsa della 24enne, sperando che qualche cittadino possa fornire dei dettagli utili. A questo punto, il cliente che aveva fatto acquisti intorno alle 20 e 20 e la donna che aveva trovato il negozio deserto verso le 21 si fanno avanti. Il primo dice alla polizia che era stato servito da Lisa e che sembrava lei stesse bene. Non ha niente da segnalare. La seconda racconta di aver sentito quel rumore di colpi provenire dal magazzino sul retro, ma non credeva ci fosse motivo per inquietarsi. La polizia allora attribuisce il fracasso avvertito dalla cliente alla probabile lotta di Lisa contro il suo rapitore prima che lui riuscisse a portarla via dal negozio. Poi un'altra donna che lavora vicino al negozio di souvenir riferisce alla polizia che due persone hanno catturato la sua attenzione proprio intorno alle 21 e 15 della sera in cui Lisa è scomparsa. Nello specifico la testimone era alla guida della propria auto quando ha visto un uomo e una donna che lottavano sul sedile posteriore di una macchina. Tuttavia non aveva avvertito la polizia della situazione pensando che non ci fosse un motivo serio per cui preoccuparsi. Forse quei due ragazzi stavano soltanto scherzando, così era passata oltre. La polizia ottiene anche un'altra informazione importante grazie agli amici intimi e ai familiari di Lisa. Infatti pochi giorni prima della sua scomparsa la ragazza aveva confidato loro che percepiva che qualcuno la stava osservando di nascosto. Forse a spiarla era il suo rapitore? Data per vera questa storia significa che il colpevole stava progettando da un po' di rapire Lisa. Nei giorni successivi lo sforzo nel condurre le ricerche di Lisa si intensifica. Intervengono numerosi poliziotti e la comunità locale è davvero partecipe. Tutti si preoccupano e sperano disperatamente che Lisa venga trovata sana e salva. Ma purtroppo, quattro giorni dopo la scomparsa della ragazza, cioè il 19 aprile del 1992, la domenica di Pasqua giunge con una cattiva notizia. La polizia riceve una telefonata da parte di un uomo il quale afferma di essersi imbattuto in un cadavere mentre passeggiava con il suo cane in un bosco nei paraggi. Gli agenti accorrono sul posto descritto e individuano il corpo senza vita di una giovane donna, che è proprio la 24enne Lisa Ziegert. La zona boscosa che nasconde i suoi resti si trova a circa 4 miglia dal negozio di souvenir, dove era stata vista l'ultima volta. La vittima è parzialmente vestita e viene stabilito che aveva subito violenza intima ed era stata appugnalata a morte. Riporta ferite da taglio su tutto il corpo, dunque affronteggiato un'aggressione brutale e feroce. La coltellata letale le era stata inferta sul collo. Sulle braccia e sulle mani di Lisa si evidenziano anche delle ferite da autodifesa, come lividi e tagli, i quali testimoniano chi aveva cercato di combattere il suo assassino. Dopo il ritrovamento del corpo, la polizia deve dare la tragica notizia ai familiari di Lisa. Dee, la madre della ragazza, non ricorda esattamente ciò che le è successo quando ha saputo della morte di sua figlia. Ricorda soltanto che le è improvvisamente mancato l'equilibrio ed è crollata a terra in ginocchio. Poi anche il pubblico viene informato del ritrovamento del corpo di Lisa e allora tutta la città si terrorizza al pensiero che un efferato assassino possa prendere di mira altre giovani donne innocenti, visto che è ancora a piede libero. E se questo fosse solo l'inizio di una sfilza di morti cruente causate quindi da un serial, la gente teme che l'omicida possa colpire ancora, ha paura per la propria vita e ad Aguam si registra un aumento smisurato dell'acquisto di armi. Molte donne comprano delle mazze e vogliono essere sicure di potersi difendere qualora ce ne fosse il bisogno. Intanto la polizia conduce all'indagine per omicidio, cerca di identificare e catturare l'assassino di Lisa. Si verifica una svolta abbastanza presto perché vengono individuate alcune tracce del DNA del colpevole sulla scena del crimine, ovvero lo sperma lasciato sulla gonna di jeans di Lisa. Tuttavia, una volta inserito il DNA nel database, non emerge alcuna corrispondenza e quindi non si dispiegano nuove piste da seguire. Inoltre, è necessario considerare che questo delitto è avvenuto nei primi anni 90. Il DNA costituiva già una prova molto valida, ma la tecnologia forense non era così avanzata. Comunque, la polizia crede che l'assassino di Lisa viva nei pressi della zona rurale e boscosa in cui è stato ritrovato il cadavere della 24enne, oppure che conosca l'area molto bene. Si tratta infatti di un territorio isolato dove non si sviluppano abitazioni o negozi, si trova a circa 300 metri dalla strada principale. Dunque, quasi nessuno ha familiarità con questa zona, fatta eccezione per le persone che vivono nei dintorni, tra cui si nasconderebbe un killer spietato. Questa supposizione genera un sacco di speculazioni e voce in circolo. L'agente inizia a telefonare alla polizia per comunicare le proprie teorie su chi potrebbe essere l'assassino. L'uomo che desta maggiori sospetti è un certo Ed Borgatti. Ed ha più o meno la stessa età di Lisa e la conosceva bene. I due erano buoni amici, andavano al liceo insieme, e Ed è anche il coinquilino del ragazzo con cui stava Lisa prima di essere uccisa. Secondo una sola fonte consultata, qualcuno vocifera che Lisa tradisse il suo fidanzato con Ed, ma nulla lo ha mai accertato. La comunità locale e l'opinione pubblica si scagliano per molto tempo contro Ed, ipotizzano che Lisa lo avesse rifiutato e che lui si fosse vendicato ammazzandola. Qualcuno sostiene anche che la polizia sia consapevole della colpevolezza di Ed, ma che stia cercando di insabbiare la cosa perché il padre del ragazzo è un poliziotto. In ogni caso Ed viene interrogato, ma dimostra di avere un alibi solido in relazione al momento in cui Lisa sarebbe stata rapita. Anche lui stava lavorando, era di turno nel ristorante dove è stato assunto, e molte persone possono confermarlo. Dunque lui non può essere l'assassino perché non è dotato del dono dell'ubiquità e quindi non può trovarsi in due posti contemporaneamente. Inoltre il DNA rilevato dalla scientifica non corrisponde a quello di Ed, e questa è una prova concreta che lo esclude da ogni sospetto. Ciò nonostante, la comunità locale continua a essere fermamente convinta che sia lui il colpevole e diffonde tanti pettegolezzi crudeli su Ed. Tutti, a parte la polizia e i familiari di Lisa, credono che sia lui l'assassino e lo crederanno per anni e anni, perché purtroppo occorrerà molto tempo per individuare il vero omicida. Non riesco a immaginare quanto sia stato difficile per Ed vivere in una città dove tutti pensano che sei un assassino spietato. Ciò che gli rende la situazione ancora più insopportabile è che lui era un buon amico di Lisa. Quindi non solo deve affrontare il dolore per la perdita di un'amica, ma deve anche sostenere tutte le accuse ingiuste di coloro che lo additano come l'assassino della ragazza. Deve essere stato davvero devastante, traumatico. In un documentario di True Crime Daily su questo caso, Lynn, la sorella di Lisa, ha affermato che Ed ha diritto a ricevere le scuse da parte di ogni singola persona che ha pronunciato delle parole scortesi contro di lui. In ogni caso, dopo che la polizia esclude Ed dalle indagini, la ricerca del vero assassino di Lisa procede con difficoltà. Gli investigatori fanno tutto il possibile per cercare di identificare l'autore del reato, esaminano ogni singola segnalazione ricevuta, ogni apparente indizio, prelevano dei campioni di DNA da vari soggetti per confrontarli con il profilo genetico dell'assassino, ma non trovano mai una corrispondenza. Nessuno di questi sospettati è concretamente collegabile al crimine, e col tempo le indagini si arenano. Nonostante gli sforzi, il caso rimane risolto per circa 24 anni. Facciamo quindi un enorme balzo in avanti nel tempo e atterriamo nel 2016. Alcuni detective stanno controllando dei vecchi fascicoli di casi risolti e si imbattono in quello di Lisa. Decidono così di avvalersi delle nuove tecniche di indagine sul DNA per cercare di catturare l'assassino una volta per tutte. Il nuovo punto di partenza è quindi il profilo genetico del colpevole, individuato e raccolto nel 1992, quando Lisa è stata uccisa. E l'obiettivo è quello di ottenere un'immagine composita dell'autore del reato grazie alla fenotipizzazione. Attraverso la fenotipizzazione delle tracce di DNA si può avere un'idea delle caratteristiche fisiche visibili del soggetto dell'analisi. Dunque l'immagine ottenuta dovrebbe riprodurre l'aspetto del criminale. Questa che vi faccio vedere è l'immagine che gli scienziati forensi hanno ricavato dal profilo genetico dell'assassino di Lisa. Dunque questo dovrebbe essere il suo aspetto al momento dell'omicidio. Notiamo che è un maschio bianco con una carnagione chiara. Potrebbe avere gli occhi color nocciola o marroni e i capelli castano scuro o neri. La polizia rilascia queste immagini ai media e al pubblico durante una conferenza stampa sperando che qualcuno riconosca il volto e si faccia avanti. Bisogna però ricordare che quella raffigurata sarebbe la faccia che l'assassino aveva nei primi anni 90 e quindi associare questo volto a una persona considerando che sono trascorsi circa 24 anni risulta chiaramente più difficile. Dunque gli scienziati forensi producono anche un'altra immagine composita per mostrare come potrebbe apparire l'assassino se fosse ancora in vita nel 2016 e avesse circa 50 anni. La polizia nel frattempo rivaluta le prove e gli indizi raccolti nel corso degli anni, gli esamine sospettati o le persone di interesse che però non risultavano collegabili al delitto. Molti uomini sono stati interrogati in tutto questo tempo ma nel 2017 la polizia intende risentire 11 sospettati che si erano rifiutati di fornire volontariamente un campione del proprio DNA. Sottolineo che negarsi è un loro diritto la polizia non può costringerli a meno che non abbia uno specifico mandato. Intanto i detective cominciano con l'osservare più da vicino questi 11 uomini perché probabilmente tra loro si nasconde l'assassino di Lisa. Stavolta la polizia si rivolge al tribunale e attraverso un procedimento del gran giurie ottiene le ordinanze che obbligano questi 11 sospettati a fornire il loro DNA affinché venga testato e confrontato con quello del colpevole. Dopodiché gli agenti si recano presso i domicili di ciascuno di loro con il mandato. Quando bustano alla porta di casa di Gary Shara che vive a West Springfield sempre nella contea di Humden ad aprire non è lui cioè la persona che i detective stanno cercando bensì il suo coinquilino il quale dice che Gary non c'è. Gli agenti allora raccontano al coinquilino la situazione e gli chiedono di informare Gary dell'ordinanza emessa dal tribunale per raccogliere il suo DNA. Di conseguenza hanno bisogno che lui li contatti il prima possibile. Il coinquilino assicura alla polizia che farà quanto richiesto dunque pare che bisogna soltanto aspettare. Sì, ma si rischia di aspettare troppo o in vano perché Gary Shara lascia la città non appena il coinquilino lo informa dell'accaduto. L'indagine quindi prende una piega alquanto inaspettata. Questa mossa di Gary lo fa apparire parecchio sospetto visto che lui faceva già parte degli undici uomini che si erano rifiutati di fornire il proprio DNA volontariamente all'inizio delle indagini nel 1992. E ora che gli viene presentato un mandato del tribunale lui cosa fa? È l'unico che ha deciso di allontanarsi. Sembra che sia letteralmente scappato. Bisogna rintracciarlo subito perché il comportamento di Gary rivela che potrebbe essere proprio lui l'assassino che la polizia sta cercando da più di vent'anni. Nel 2017 Gary ha 48 anni quindi al momento dell'omicidio nel 1992 ne aveva 23. Gary ha cominciato a essere considerato come una persona di interesse per il caso di Lisa dal 1993 cioè dall'anno successivo al delitto. qualcuno di molto vicino a lui aveva comunicato il suo nome alla polizia dicendo che lo riteneva un probabile colpevole. Ma ne parleremo più approfonditamente tra un po'. In ogni caso il giorno seguente a quello in cui si scopre della fuga di Gary la sua fidanzata entra in una stazione di polizia di Aguam e consegna agli agenti tre lettere che ha appena trovato scritti a mano da Gary in procinto di lasciare la città. La prima è un testamento la seconda è una confessione in cui ammette di aver ucciso Lisa Ziegert. La terza è una lettera di scuse indirizzata alla famiglia della vittima. Vi leggerò una parte delle lettere cominciando dalla confessione che in realtà Gary ha indirizzato alla sua ragazza. Scrive Temevo il giorno in cui avrei dovuto scrivere questa lettera da molto tempo. Prima di tutto ti amo spero che non ne dubiti mai. Ora arriva la parte difficile scoprirai alcune cose orribili su di me oggi. Ti diranno che un giorno ho rapito e ucciso una donna circa 25 anni fa. È tutto vero. Non avevo intenzione di ucciderla quando l'ho rapita ma gli eventi sono sfuggiti al mio controllo. Non mi sono mai pentito così tanto di aver fatto qualcosa. Ero giovane, testardo e sciocco. Gary ha anche scritto Non sono mai stato e non mi sono mai sentito normale. Fin da piccolo ero affascinato dai rapimenti e dal bo... Non sono mai riuscito a tenerli troppo lontani dalla mia mente per molto tempo. Quel fatidico giorno mi sono concesso di fare qualcosa di terribile. Quanto alla lettera indirizzata alla famiglia di Lisa scrive Spero che sapere chi sono vi porti un po' di pace. Sono davvero così dispiaciuto. Il testamento invece suggerisce che Gary voglia mettere fine alla propria vita per non dover affrontare le conseguenze delle sue azioni. Alla luce di questo materiale gli investigatori sono certi più che mai che Gary Shara è l'assassino di Lisa. Di conseguenza avvisano tutte le centrali di polizia delle zone circostanti affinché si mettano alla ricerca di quest'uomo sospettato di omicidio. Lo trovano in poco tempo attraverso l'analisi dei suoi tabulati telefonici. Lo rintracciano in un ospedale a Stafford Springs nel Connecticut. Gary è ricoverato lì perché è andato in overdose proprio nel tentativo di togliersi la vita. Viene quindi curato dai medici e poi arrestato dalla polizia il 16 settembre del 2017 accusato dell'omicidio di Lisa Ziegert. Mentre aspettano che Gary venga estradato nel Massachusetts gli investigatori cercano di trovare ulteriori prove che lo colleghino al crimine. Ottengono un mandato di perquisizione per la sua proprietà e in questa occasione repertano diversi oggetti presenti in casa contenenti tracce del suo DNA come lo spazzolino da denti. Quando confrontano il suo profilo genetico con quello rilevato dal liquido trovato sulla gonna di Lisa emerge la corrispondenza. Dopo 25 anni finalmente la polizia ha delle prove concrete che incriminano Gary dell'omicidio di Lisa. Gli agenti comunicano questa notizia alla famiglia della vittima che da un tempo parso infinito aspettava di sapere la verità. Ma ora prima di parlare del procedimento giudiziario di Gary vi racconto cosa l'ha portato a diventare una persona di interesse per questo caso quasi dall'inizio. Premetto che online non c'è alcuna informazione sull'educazione che Gary ha ricevuto da piccolo. sono riuscita a scoprire che è stato adottato ed è cresciuto a Long Meadow sempre nella contea di Hamden nel Massachusetts. Questa città si colloca a 5 miglia di distanza da Aguam dove Lisa viveva e dove è stata uccisa. A quanto pare Gary non era un tipo popolare al liceo. Infatti quando viene identificato come l'assassino la polizia chiede ai suoi vecchi compagni di scuola come si comportava Gary da giovane ma in molti rispondono che nemmeno se lo ricordano. Il suo nome e il suo volto non dicono agli ex studenti assolutamente nulla. Gary se ne stava sempre sulle sue era un ragazzo solitario che non praticava nessuno sport nell'istituto. Si era diplomato nel 1987 e subito dopo aveva iniziato a lavorare in un ristorante. All'inizio degli anni 90 era diventato il manager di un ristorante e i suoi ex colleghi lo descrivono come una persona educata e valida nel suo lavoro. Prima dell'omicidio di Lisa Gary si era sposato con una donna di nome Joyce McDonald e subito dopo le nozze avevano messo al mondo un figlio. Gary era un buon padre e il suo matrimonio sembrava sereno almeno fino al delitto di Lisa perché Joyce aveva la sensazione che proprio suo marito fosse responsabile. La notte della scomparsa di Lisa Gary aveva regalato a sua moglie un carrion acquistato qualche ora prima da Brittany's Card and Gift Shop il negozio in cui lavorava la ragazza. Tuttavia Gary aveva detto a Joyce che la donna che glielo aveva venduto era una signora anziana eppure l'unica dipendente assegnata al turno serale era Lisa quindi Gary aveva mentito a sua moglie. Quando Joyce aveva preso la notizia attraverso i media in lei erano immediatamente sorti dei sospetti non solo perché Gary aveva acquistato il carrion nel negozio in cui lavorava Lisa la sera della sua sparizione ma anche perché proprio quella notte suo marito era tornato a casa dopo mezzanotte cosa che non aveva mai fatto prima. Per di più una volta che lui era rientrato Joyce perplessa aveva notato le sue mani coperte di tagli e graffi suggerivano che Gary avesse fatto una lotta e purtroppo sappiamo bene contro chi ovvero la povera Lisa che come ricorderete presentava diversi segni di ferite da difesa Joyce non si era risparmiata dall'affrontare suo marito gli aveva chiesto cosa fosse successo perché le sue mani erano in quelle condizioni e per quale motivo era rincasato così tardi proprio la notte in cui quella giovane ragazza era scomparsa Gary non gli aveva risposto non poteva dare una spiegazione logica alle sue domande la verità l'avrebbe sconvolta poi Joyce aveva notato che col passare dei giorni Gary era sempre più ossessionato dall'omicidio di Lisa ogni volta che i notiziari locali ne parlavano lui rimaneva incollato davanti allo schermo della tv così i sospetti di Joyce non avevano fatto che aumentare spingendola a credere che era stato suo marito a uccidere una ragazza innocente non so se Gary fosse mai stato violento o offensivo nei confronti di sua moglie durante il matrimonio ma una fonte riporta un dettaglio inquietante che spiegherebbe come mai Joyce riteneva che suo marito fosse capace di commettere un crimine pare che occasionalmente durante i rapporti intimi Gary puntasse un coltello alla gola di Joyce come parte di un gioco di ruolo ciò potrebbe suggerire che aveva delle fantasie a sfondo violento e non so se questi giochi di ruolo fossero consensuali o se Gary abusasse di sua moglie ma una cosa è certa da questo momento il matrimonio tra Joyce e Gary era andato alla deriva infatti appena quattro mesi dopo il delitto nell'agosto del 1992 la polizia era accorsa a casa dei coniugi la coppia stava litigando in modo allarmante tanto che Joyce si era chiusa in bagno per scappare da Gary circa un paio di mesi dopo nel novembre del 1992 i coniugi avevano deciso di separarsi e Gary aveva ottenuto la piena custodia del figlio tuttavia nel 1993 durante una delle visite genitoriali Joyce aveva rapito il bambino era salita con lui su un taxi avevano raggiunto l'aeroporto e si erano imbarcati su un volo diretto a Seattle in seguito Gary aveva denunciato sua moglie alla polizia infine gli avvocati di entrambi erano stati incaricati di risolvere la disputa sulla custodia non molto tempo dopo nel 1993 Joyce aveva confidato al suo avvocato che sospettava che Gary fosse il responsabile della morte di Lisa Ziegert immagino che Joyce non l'abbia mai riferito alla polizia perché era terrorizzata da ciò che Gary avrebbe potuto farle qualora avesse scoperto che era stata proprio sua moglie a segnalarlo ai detective quantomeno Joyce ormai più distante da Gary aveva trovato il coraggio di parlare con il suo legale ed era stato lui a riportare tutto alla polizia gli investigatori si erano attivati subito per appurare la questione si erano messi in contatto con Gary e gli avevano chiesto di passare alla stazione di polizia per fornire un campione di DNA così da poterlo confrontare con quello ricavato dalla gonna di Lisa ma l'avvocato di Gary aveva sminuito le informazioni di cui la polizia era entrata in possesso sostenendo che Joyce raccontava solo bugie perché stava cercando di incastrare l'ex marito per ottenere la custodia del figlio il legale ribadiva che non ci si poteva fidare di Joyce dato che era un'alcolizzata aveva alcuni problemi di salute mentale di conseguenza era inaffidabile in seguito il nome di Gary era finito nel fascicolo sul caso di Lisa insieme a quelli degli altri dieci uomini che si erano rifiutati di fornire il campione di DNA Gary era stato interrogato un paio di volte nel corso degli anni ma la polizia non aveva alcuna prova che lo collegasse al crimine così Gary era rimasto impunito per moltissimi anni ma non per sempre nel 2017 come sapete la polizia ottiene un'ordinanza dal tribunale per prelevare il campione di DNA da tutti gli undici sospettati che si erano rifiutati di fornirli in precedenza in questa fase della sua vita prima di fuggire Gary Shara viveva in un appartamento a West Springfield e aveva una relazione con un'altra donna quella che ha fornito le lettere incriminanti alla polizia torniamo quindi al punto in cui eravamo rimasti cioè quando Gary viene arrestato nel Connecticut a settembre del 2017 oltre 25 anni dopo l'omicidio di Lisa Ziegert viene estradato nel Massachusetts e accusato di omicidio di primo grado le accuse contro Gary relative al rapimento di Lisa e all'esercizio di violenza intima su di lei decadono prima che lui presenti una dichiarazione in quanto il limite di tempo corrispondente alla prescrizione è stato superato senza che sia stata intrapresa alcuna azione legale per il reato da lui commesso in ogni caso Gary Shara si dichiara colpevole di omicidio di primo grado nel 2019 27 anni dopo il delitto e viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale quindi morirà in prigione secondo quanto sostenuto dallo stesso Gary nelle sue lettere il rapimento la violenza intima e l'omicidio della giovane Lisa rappresentano un'azione anomala che non ha mai più commesso pur essendo affascinato dai rapimenti e dalla sottomissione fin dalla tenera età ha scritto anche che odiava quello che aveva fatto e che si disprezzava per questo aggiunge che aveva pensato di costituirsi centinaia di volte nel corso degli anni ma che era troppo codardo per farlo questo caso è molto triste ma anche così contorto e amaro l'assassino di Lisa è riuscito a farla franca per più di un ventennio dopo l'omicidio e la separazione da sua moglie ha semplicemente proseguito la sua vita ha fatto nuove esperienze ha conosciuto nuove persone si è fidanzato con un'altra donna mentre Lisa non ho potuto fare nulla di tutto ciò perché la vita le è stata brutalmente strappata a soli 24 anni ogni volta mi sconcerta leggere di assassini come Gary Shara che riescono a condurre la propria vita come se potessero cancellare i crimini commessi dalla mente e dalla coscienza in una sola fonte è indicato che Gary è stato paragonato al noto serial Ted Bundy in quanto nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe stato capace di fare una cosa del genere anzi in tanti lo ritenevano un uomo particolarmente affascinante e questo ci porta alla fine di questo caso un caso molto triste che ha lasciato sospesi i cari di Lisa e gli amici di Lisa per tanti anni e anche se è terribile aver perso la propria figlia credo che dopo 25 anni siano stati molto contenti di sapere la verità di conoscere la verità e fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso fatemi sapere se lo conoscevate e come al solito insomma le prove del DNA si rivelano sempre utilissime e in questa situazione in questa indagine sono stati bravissimi a raccoglierla nel 92 e soprattutto a conservarla quella traccia di DNA quindi io come al solito vi invito a lasciare tutti i vostri pensieri qui sotto nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.